e qui sono due carte a colore e vai no e sweet vanno bene a cache sono 4 quinti 4 quinti di colore vabbè ti lascio fare perchè vuoi vedere come i giochi non dico niente e cerca fai slow lay si dai li teniamo dentro vai vai questa è la scelta migliore quando è un progetto di scala o di colore cerca di tenere il piatto basso perchè poi va a finire che se tu punti l'altro ti va in olina e colla no dai 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 no vedi che vincono sempre loro non esce mai una volta ma non si gioca così al po cosa ha sbagliato qua voi siete abituati così a giocare perchè veramente c'è da mettersi le mani nei capelli e cosa ha sbagliato avevo avevo il colore e non è uscito ma non devi certo non devi andare a cerca del colore della scala se vai in un olino uno showdown devi comunque essere sicuro di avere la percentuale massima di vincita tu in un olino non avevi la percentuale e cosa passi lì cosa hai passato sei scemo piccolo buio si gioca cioè così diventa un bingo come giochi tu non sai cosa ti esce se ti esce il colore se ti esce la scala ma scusa al flop ha fatto bussa e ha fatto bene e l'altro ha puntato lui aveva 4 quinti di colore cosa doveva fare se tu vedi lo stack devi foldare devi anche tenere in considerazione le odds tipo un torneo le odds che stanno il piatto che hai di fronte cioè non ti puoi andare a compromettere lo stack per un colore non chiuso ma se poi si chiude lo capisce cioè come faccio se si chiude poi non gioca più e io voglio che gioca vabbè tu gioca no vabbè io voglio capire ma come sì però cioè tu non puoi dire alla fine tu devi ok tu dici io voglio giocare così perché voglio rischiare e voglio avere il massimo esatto però poi non ti puoi lamentare che gli altri ti scoppiano che in realtà sei tu che vuoi scoppiare gli altri cioè secondo me in quel caso bisogna chiamare sempre perché comunque c'è il progetto del colore cos'hai adesso se lo chiudi vinci no 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 Grazie.